Assessore Vernillo, più multe nel 2015, ma non tutte incassate, una buona parte non è ancora stata pagata. I dati del rendiconto che fotografano una situazione di natura contabile e di bilancio, quindi con la regola della contabilità e del bilancio, al 31-12, ci dicono che comunque abbiamo degli incassi inferiori rispetto all'anno precedente. Questo è un dato di fatto. Però abbiamo tutto il 2016, nel quale stanno venendo avanti i pagamenti che dovevano essere fatti per l'anno scorso. Un più 24% di multe nel 2015 ha portato però ad una percentuale di pagati uguale al 74% delle multe è stato già pagato e è stato già incassato. È evidente che il restante 26% di multe probabilmente riguarda le cifre più alte, le multe più alte che vengono ricorse, con ricorsi giurisdizionali ovviamente da parte delle persone. Quindi si tratta solo di una questione di tempi tecnici, definiamoli così? Assolutamente sì, chiaramente noi stiamo monitorando in maniera chiara e in maniera forte, ho già dichiarato appunto anche in Consiglio Comunale, che c'è un'attenzione particolare anche in Commissione e siamo disponibili ovviamente a parlarne, a confrontarci con le minoranze di questo. Se ci sono stati dei problemi o degli errori li andremo a correggere e stanno facendo comunque un grande lavoro la Polizia Locale con il software, perché le nuove regole del bilancio armonizzato non sono di facile e semplice attuazione. Grazie a tutti!